Bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo è l'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili, però ponendo l'attenzione sull'opinione femminile. Perché? Perché poi alla fine è l'unica cosa che interessa ai maschi, o no? Oggi parliamo di mamme, di mamme che gli uomini vogliono conquistare in termini un attimo più moderni, MILFs. MILFs sta per l'inglese Mother I'd Love To Fuck. Il termine inglese più conosciuto dagli italiani che invece non masticano completamente la lingua della regina Elisabetta, del re Carlo, oppure anche di Demben. Odoriamola con Mirko è la dimostrazione pratica che alla fine anche gli uomini sono provvisti di istinto materno. Che magari arriva uno e fa, o una magari, e fa, eh, tu sai l'istinto paterno, non c'ha l'istinto materno. Guarda che ti assicuro che secondo me gli uomini hanno più istinto materno che istinto paterno. Quindi diciamo che se siete alla ricerca della donna con esperienza, questa è la classifica che fa al caso vostro, perché si tratta di fragranze con le quali ho ricevuto la maggior parte dei complimenti da donne di una certa età. Da una certa età in su, diciamo. Al decimo posto, Bottega Veneta Porhomme Parfum. Purtroppo si tratta di un'edizione limitata, però mi sento di consigliare anche la versione Porhomme Extreme, che è abbastanza simile. Secondo posto in generale per questo profumo nella classifica della top 10 2018, però questa è specifica per le MILF. Come già detto, questo senso di bosco, di after 8 misto agli aghi di pino, abete, eccetera, eccetera. Intriga le MILF abbastanza. Intriga un po' tutte. Fanno abbastanza simili, eh? Non vi preoccupate. Al nono posto, Carolina Herrera, CH-Man. Una fragranza che sa un po', sai di toy boy? Cioè, è un po' quel ragazzetto sfacciato, che però un attimo ci sa fare, è la donna che ti arriva lì, con questi reggiseni che si potrebbero definire con un termine ormai desueto, prosperosi, e si immaginano chissà che. Carolina Herrera, CH-Man. Non lo posto. Ottavo posto per Dior Home Intense. Ma, diciamo che questa è la fragranza che ha raggiunto il quinto posto nella classifica generale della top 10 2018. Grazie alla sua nota di Iris intrigante, che però diciamo che in generale piace a tutte le donne, ho ricevuto veramente tanti complimenti dall'Emil Fone. Al settimo posto, Gentleman Givenchy Eau de Parfum. Diciamo che qua sa un po' di quell'uomo misterioso che dà quella verve che è un po' la donna di una certa età, sai, un po' casalinga alcolizzata, un po' che si è rotta i coglioni di fare sempre la stessa vita, seduta sul divano con Netflix e a guardare le serie televisive. pensa, mi sa che cosa c'è di misterioso dietro a questo, questo uomo, questo uomo brizzolato. Gentleman Givenchy Eau de Parfum. Attenzione, possono usarla anche i ragazzi più giovani. Se sono alla ricerca di Milf, all'arrembaggio, ragazzi, anche quelli più giovani, Schwarzlose Berlin Zeitgeist. Che cosa ha di particolare che piace alle Milf, questa fragranza? La Milf è interessata un po' a come tira il vento della moda a livello olfattivo, o è troppo legata ai ricordi del passato, diciamo, dei ricordi olfattivi del passato. Questo Zeitgeist è una fragranza fresca, però a base di cuoio. Ragazzi, particolare. Al quinto posto un classicone di Chanel, Chanel Allure Homesport Eau Extreme. Piace un po' a tutti, a parte Vanessa Büttner. Perché è classica, però, con un tocco agrumato, simpatico, che la donna un po' milfona così, sempre con le tettone di fuori, può pensare, ma questo di qua mi dà quella verve di cui ho bisogno. Al quarto posto un mio pupillo, lo devo ammettere, Givenchy Serious Rouge. Perché? Perché è una fragranza fresca, fresca però è una freschezza sicura, avvolgente, che ti dà proprio quel senso di di sicurezza, di stabilità. Non è un savage che tu prendi e arrivi con la giacchettina, la camicia bianca tutta aperta che si vede il pelo e sei lì a fare un po' il piacione in infradito. Questo è per un uomo serio. Cioè, io sono qua, ti sto coccolando, tu mi il fona del mio cuore, eccetera. Terzo posto per una fragranza che cito per la prima volta, Kenzo Porom Eau de Parfum. ragazzi, io non so perché, qualsiasi myth che un attimo sembrava capirne di fragranze, perlomeno quelle design commesse, delle profumerie alle quali ho chiesto, ma qual è il tuo preferito? ragazzi, cioè, è un massacro. Sto Kenzo Porom Eau de Parfum è un massacro al livello di mille. Attenzione, soprattutto durante la stagione primaverile ed estivo. A sorpresa saltiamo la posizione numero due, e perché mai? Perché la posizione numero uno è un parimerito. Tamin, Patiala e Terre Dermes. Perché Patiala, praticamente, è molto simile a Terre Dermes Eau de Parfum, solo che Tamin, essendo un brand di nicchia, ha anche un certo prezzo, però ha anche una durata maggiore. Terre Dermes ha una durata senza ombra di dubbio decente, però sempre nell'ambito delle fragranze design. Attasi di un uomo convincente di personalità che profuma di arancia sporca, di scorza d'arancia asciutta. Ideale su un cappotto durante la stagione autunnale o invernale, ragazzi. Questo è una chiappa milfone. In mano ho un'edizione limitata di Patiala, che invece sul mercato si trova in questo momento solo una bottiglia diciamo simile a questa, cioè blu. Eccomi adesso con un foglio di carta e per la precisione di Marco Carta. E cosa c'è scritto? Un saluto al Fulmicotone, a tutti i ragazzi dell'ignoranza di carta olfattiva dal vostro cucciolone e poi firmato Marco Carta. Grazie Marco, saluto ovviamente per il tour che fa seguito all'album che già è diventato disco d'oro, peraltro, ovvero albero di Fulmicotone. Oh e mi raccomando con questa cosa che fai tu, diciamo, del cantare, di fare... E' l'amore! Sono Marco Carta! Eccetera, eccetera. Il video è finito, non dimenticate di iscrivervi al canale, perché se no fa che ci sto a fare. E di mettere magari anche un bel like se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, cioè, non mettere niente, non lo so, scrivi un commentino tipo, non lo so, Marco Carta, uno di noi, o, non lo so, Odoriamola con Mirko, uno di noi, o, non lo so, Douglas Mortimer, uno di noi...